Innanzitutto l'idea di fare un premio al Trento Film Festival è funzionale un po' quello che è lo scopo dell'associazione, cioè diffondere l'attività outdoor al grande pubblico che non pratica già outdoor. Quindi il premio sarà dato al film che esprimerà al meglio lo spirito outdoor appunto, la vita all'aria aperta, l'esplorazione, la montagna ma non necessariamente la montagna, potrebbe essere anche laghi, mare, il contatto con la natura. Se si vuole così far formazione o trasferire la cultura montagna su chi appunto non va già in montagna, secondo noi non bisogna tanto trasferire immagini estreme o di competizione ma, o la prestazione, ma proprio quello stile di vita all'aria aperta, no? Che è un modo per star bene, direi che outdoor è uguale a wellness, no? Secondo noi in Italia non ci sono statistiche precise, però la sensazione è che in Italia si pratichi molto meno l'outdoor o l'attività all'aria aperta che in altri paesi europei, nonostante la concentrazione di posti, montagne molto più belle che in altri paesi, quindi è proprio una questione culturale. Outdoor è uguale a wellness, è così la formula, la nostra formula perché si sa che l'attività fisica fa bene allo spirito e al corpo ma all'aria aperta ancora di più, no? Fare un'attività in montagna è molto più appagante che farla all'interno di una palestra, ecco.